Il Covid avanza, aumenta la pressione sulla sanità e ancora una volta si torna a parlare della decisione dei vertici dell'Ulss 7 di coinvolgere il San Bassiano e l'ospedale di Sant'Orso in una condivisione dell'emergenza con la riduzione dell'attività e il blocco delle visite ai pazienti. Il protocollo prevede che venga istituito un Covid Hospital solo al passaggio nella terza fascia, mentre al momento la Pedemontana e il Bassanese sono ancora nella seconda fascia. Questa situazione però sta portando molte persone che sono a vario livello coinvolte nella sanità e molti cittadini a chiedersi perché si stiano creando doppioni nei due ospedali di Bassano e Sant'Orso con l'impiego in sostanza del doppio del personale. Questo ragionamento non include ovviamente l'area intensiva e subintensiva. A essere colpita è anche l'attività, visto che nelle ultime due settimane sarebbero tre le sale operatorie chiuse a Bassano a causa del Covid, in alcuni giorni anche quattro. Si è passati da nove a sei sale attive ogni giorno ed è plausibile che questo numero scenda a quattro nell'immediato futuro. Nel frattempo si è svolta la conferenza dei sindaci dell'Ulss7, il cui ordine del giorno proponeva al primo punto l'alternanza della presidenza dei sindaci. Il risultato non è arrivato nemmeno dopo una lunghissima discussione che ha fatto emergere ancora una volta come sia molto difficile ragionare di un'unica entità territoriale fra zone così diverse fra loro. Alla fine si è deciso di delegare alla struttura dell'azienda sanitaria una proposta che permetta di compenetrare le esigenze di due distretti, quindi non ci sono nomi nell'urna ma solo un'ulteriore dilazione dei tempi. Insomma, nel momento in cui la tempesta si avvicina sono molte le scelte da fare, strategiche e politiche, per rispondere alle esigenze di un territorio che ha bisogno di certezze e di organizzazione.